Guardate, questo è il tonno, il salmone, i capperi e due mele, cioè una mela spaccata in due e l'acqua, Sant'Anna, alimentazione da uomo di mare, mediterraneo. Buonissimo. buonissimo anche questo salmone ma quanto è buono ma da uomo di mare i capperi buonissimi buonissimi veramente buonan buonan días señor e señorita